A Montesilvano l'amministrazione comunale prosegue la battaglia contro l'abusivismo commerciale all'indomani dell'operazione della Polizia Municipale. Compiuta in collaborazione con il personale della Guardia Costiera e i volontari del Comitato Riprendiamoci Montesilvano, abbiamo verificato questa mattina la situazione nell'area compresa fra la foce del fiume Saline e via Marinelli. Anche questa mattina sulla spiaggia ci sono vere e proprie bancarelle con i Vucumpra che hanno messo in mostra i loro prodotti. In questo caso, come mostrano le immagini di Alberto Capo, in vendita ci sono borse di marchi prestigiosi contraffatte vendute dai Vucumpra a prezzi nettamente inferiori rispetto a quelli praticati dai negozi. Il consigliere con delega alla sicurezza urbana Marco Forconi annuncia che operazioni e controlli sul territorio saranno effettuati ogni settimana. C'è da dire che rispetto agli anni precedenti questo fenomeno si è sensibilmente ridotto anche grazie all'attività che poi ci sono state nel corso degli ultimi due anni che veramente hanno dato una botta forte a questo problema. Purtroppo c'è da dire che oltre ai venditori ambulanti che, lo ripeto, che siano dotati o meno di licenza, comunque non possono vendere sull'arenile, ci sono anche dei comportamenti scorretti, diciamo maleducati anche da parte di coloro che fruiscono della spiaggia. Però su quello per fortuna c'è massima attenzione e vigilanza da parte anche della Guardia Costiera. Altri interventi in altre zone di Montesilvano per risolvere altre criticità? Probabilmente questa settimana continueremo sul contrasto allo spaccio degli stupefacenti e si inizierà finalmente anche le case popolari nel Via Rimini soprattutto. Vediamo perché lì è una situazione molto complessa. Sono sicuro che faremo un ottimo lavoro. Ovviamente non si faranno sconti a nessuno, indipendentemente dalla nazionalità, colore della pelle, chi abita qui da Montesilvano da tanti anni o da poco tempo.